Un micidio all'armamento è stato ritrovato dai carabinieri della stazione di Lenico adiuvati dal nucleo operativo della compagnia di Venaria e dagli artificieri del comando provinciale di Torino nell'abitazione di un operaio italiano di 42 anni residente a San Francesco al Campo. Tre pericolose bombe a mano di fabbricazione jugoslava perfettamente funzionanti e contenenti ognuna 33 grammi di esplosivo e centinaia di sfere in acciaio e pistole erano nascoste nella cesta della biancheria sporca riposta in camera da letto e in un'intercapedina appositamente creata sotto l'avello di casa. La perquisizione, che rientra nell'intensificazione dei servizi preventivi disposti su tutto il territorio dal comandante provinciale dei carabinieri di Torino per contrastare ogni forma di illegalità, ha consentito altresì di sequestrare un panetto di hashish di 90 grammi. L'uomo arrestato e tradotto al carcere di Ivrea dovrà ora rispondere di ricettazione, detenzione illegale di armi da sparo comuni e da guerra, nonché di detenzione illegale di sostanze superfacenti. Le bombe a mano sono state disinnescate e poste in sicurezza, mentre le pistole saranno inviate al RIS dell'arma per verificare se siano state eventualmente utilizzate per commettere delitti. Le indagini dei carabinieri proseguono per accertare la provenienza di quanto sequestrato e ricostruire la rete di collegamenti dell'arrestato. Grazie. 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 Grazie.